Carissimi, si riparte col piede sull'acceleratore, puntando le telecamere sulle cosiddette citycar del futuro e parliamo naturalmente delle microcar di Avi Motor. Ci troviamo in via Monginevro 277 a Torino, in compagnia di Corrado, che saluto e rivedo con piacere. Ciao, mi hai ritrovato. Ciao Palma e buonasera a tutti. Le microvetture dei migliori marchi ci sono proprio tutte qui in via Monginevro 277, il nuovo, l'usato, le chilometri zero, ma una domanda sorge spontanea. Perché acquistare una microvettura? Il perché? Sicuramente perché queste vetture sono il futuro delle auto per l'uso in città ed intorno. Calcola che adesso abbiamo delle vetture dell'Aixam, gasolio ed elettriche che consumano veramente pochissimo. Quella gasolio percorre circa 40 km con 2 euro e quella elettrica addirittura con 1 euro 70 km. Direi che i costi di gestione sono davvero bassissimi, ne vale la pena e c'è una motivazione in più. Se passate da V-Motor il risparmio è sempre garantito. A questo punto alcuni esempi da andare a vedere insieme. State con noi. Nuovi arrivi in casa Aixam. Partiamo dalla versione Coupé. La troverete da V-Motor a partire da 12.300 euro. E se siete amanti dello spazio c'è anche la versione Station Wagon. Pensate a partire da soli 11.000 euro. Se siete amanti del risparmio, in casa Aixam è presente la versione completamente elettrica. Questo vuol dire 70 km con 1 euro. Da V-Motor è presente a 15.500 euro. Tecnologia e leggerezza anche in casa Microcar. Un esempio, la 2e a 9.950 euro. E se amate la versione Coupé, sempre in casa Microcar, sempre 2e a 9.900 euro. E ora, attenzione, solo per i clienti di auto occasioni, la Microcar M8 da 12.500 euro sarà vostra a 11.500 euro con ben 1.000 euro di sconto. E ben 1.400 euro di sconto anche sulla Liget JS50 da 14.900 euro solo da V-Motor e solo per i clienti di auto occasioni 13.500 euro. Ci sono proprio tutte le marche qui da V-Motor come JDM Xeox a soli 10.900 euro. E dopo alcuni esempi sul nuovo grande reparto dedicato all'usato, partiamo dall'Aixam City S per i più giovani, presente in due colorazioni, rossa o nera, a 7.350 euro. Grande affare. E sempre in casa Aixam, un ottimo affare per chi volesse risparmiare. A soli 6.900 euro la City con l'autoradio e i cerchi in lega, venite a scoprirla. Come dicevo in apertura, Microcar per tutti i gusti e per tutti i prezzi. Per esempio, in casa Grecav, la Ecke la troverete a partire da 3.900 euro fino a 6.900 euro. Incredibile ma vero, in casa Chateaunei c'è anche la versione Speedino. Signori, qui da V-Motor a 7.900 euro. Vi ricordo che tutte le auto da V-Motor sono coperte da garanzia ufficiale. Venite a scoprire il resto dell'assortimento. Bene, dopo questa breve rassegna vi ricordo che da V-Motor c'è molto di più, anche vetture a partire da 2.900 euro. Venite a scoprirle o andate sul sito avimotor.it, semplicemente telefonate. Vi ricordo che a V-Motor è disponibile anche la domenica mattina, previo appuntamento. E se possedete già una microvettura, il via Monginevro 277 è anche un ottimo centro di assistenza e manutenzione. Sicuramente abbiamo tutto quello che serve, dall'officina, carrozzeria e ricambi, sia originali che non. Allora vi ricordo nuovamente l'indirizzo da notare sulla vostra agenda, via Monginevro 277 a Torino da AV-Motor. Grazie per averci seguito, un ringraziamento a Corrado e come sempre lì nella regia.